Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Dunque, oggi vi mostrerò come scaricare, come avere sul vostro computer la versione di prova di Windows 10 che in questo caso è denominata, ho detto molto in maniera grossolana, versione di prova Comunque parliamo della Technical Preview, quindi una prima versione che è possibile installare per cominciare a prendere confidenza e vedere quali sono alcune delle novità della nuova versione del sistema operativo di Microsoft Windows 10 uscirà verso la metà del 2015, quindi bene o male tra dieci mesi installando la versione che vi propongo oggi, avrete accesso comunque a tutta una serie di aggiornamenti abbastanza frequenti e potrete, iscrivendovi al programma, ovviamente informare il tutto gratuito e aperta fornire il vostro feedback agli sviluppatori e quindi correggere eventuali bug e magari segnalare qualcosa che vorreste non è detto che venga e se diventa in realtà, però è sempre bene segnalare se ci sono particolari problematiche per fare in modo che poi il sistema operativo finale esca senza particolari problemi Allora, la versione è che, come detto, vedremo la Technical Preview vi lascerò tutti i link in descrizione che servono per scaricarla scaricatete una ISO e dovrete installarla su un computer, ovviamente non credo sul primario su quello che utilizzate frequentemente, magari su uno che non utilizzate tanto o che potete utilizzare come muletto di prova Allora, vi lascio il link in descrizione di questa pagina che poi ci farà iscrivere al programma e poi anche di quest'altro video che ci fa vedere direttamente sul desktop alcune delle novità che potremo vedere in questa Technical Preview Allora, quando andremo su questa pagina dovremo cliccare su per iniziare in questo caso io sono già loggato quindi mi porto in attento su quest'altra pagina e mi dice con quale email sono loggato e posso andare, come detto, andare a vedere i forum e dare dei feedback sulla nuova versione di Windows cosa che però non faccio perché non l'ho ancora provato Quindi ci sono tutte le pagine in italiano non avrete particolari problemi credo solo che i forum siano in inglese anche se in questo caso non credo comunque sia questa cosa insormontabile per la maggior parte delle persone Quindi, per scaricare la nuova versione del sistema operativo abbiamo bisogno di un sistema identico e preciso rispetto a quello avuto su Windows 7 o su Windows 8 perché i requisiti di sistema non cambiano c'è sempre un processore da 1 GHz cioè comunque la maggior parte dei computer presenti oggi saranno tranquillamente compatibili se avete Windows 7 o Windows 8 ce la fate tranquillamente comunque per installare questa versione dobbiamo cliccare dopo esserci loggati su setup pc e mi uscirà con graduazioni se è un insider e andremo a cliccare install technical preview Arrivando sulla pagina di download praticamente abbiamo a disposizione la product kit da utilizzare quando installiamo il sistema operativo e tutta una serie di versioni a 32 bit e a 64 bit 8 in totale quindi 4,32 e 4,64 in 4 lingue diverse quindi in inglese credo americano non è indicato niente poi c'è l'inglese variante Regno Unito il cinese e il portoghese semplicemente cliccando su scarica dobbiamo scaricare la versione che ci serve le dimensioni variano da 3 a 4 GB a seconda se abbiamo una versione da 32 bit o a 64 bit sotto abbiamo altri link che ci possono essere utili e vabbè in grosso modo questo credo sia tutto praticamente abbiamo anche delle pagine dedicate all'installazione essendo un file ISO possiamo anche tranquillamente gestire l'installazione tramite disco oppure tramite hard disk esterno pernetto USB come più vi aggrada il metodo di installazione non cambia perfetto detto questo credo di avervi detto tutto in descrizione quindi ripeto trovate tutti i link che vi servono dovete iscrivervi necessariamente al programma quindi vi lascerò il preview.microsoft.com e niente chiudo quel video come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io per il momento vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video